Il Comune di Ocicatena informa la cittadinanza che dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, al fine di promuovere la riduzione e il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, ha stabilito l'erogazione di un bonus di 1000 euro per ogni figlio nato, così come previsto dall'articolo 6,5 della legge regionale 10 del 31 luglio 2003. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio, lo stesso assessorato regionale ha stabilito altresì di procedere all'erogazione con due piani di riparto, suddivisi per semestre riguardanti i nati nei seguenti periodi, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 e dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Può presentare in stanza per la concessione del bonus di 1000 euro un genitore o, in caso di impedimento legale di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei seguenti requisiti. La cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero in caso di soggetto extracomunitario, titolarità del permesso di soggiorno. Alla residenza nel territorio della regione siciliana al momento del parto o dell'adozione, i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti del territorio della regione siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto. La nascita del bambino deve avvenire nel territorio della regione siciliana. Inoltre, l'indicatore di sede e il nucleo familiare non deve essere superiore a 5000 euro. Alla determinazione dell'indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di noterietà, e dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune secondo le seguenti scadenze. Per i nati dal primo semestre, cioè dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, improrogabilmente entro il 31 agosto 2013. Per i nati nel secondo semestre, quindi dal 1 agosto 2013 al 31 dicembre 2013, improrogabilmente entro il 30 gennaio 2014. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, fotocopia del documento di riconoscimento, l'attestazione ISEE e in caso di soggetti extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità, copia dell'eventuale provvedimento di adozione.